la chiesa nella sua completezza. Meno sprechi, più risparmi, più fai bene al pianeta. Questo è il principale messaggio che la Multi Utility Estra e Legambiente vogliono lanciare con Energicamente, progetto rivolto alle giovani generazioni. Un percorso ludico didattico online per gli studenti, un corso di formazione per gli insegnanti e l'alternanza scuola-lavoro in istituti di 5 città italiane, tra cui anche Prato. Tutto questo è Energicamente, il progetto lanciato dalla Multi Utility Italiana Estra e da Legambiente per avvicinare il mondo della scuola, i temi del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale. Non c'è solo il tema ambientale che viene trasferito ai nostri giovani studenti, ma c'è anche un tema legato all'innovazione, perché la buona pratica attraverso il quale si elabora questo progetto è tutto attraverso il digitale. La costruzione di città più sostenibili comincia dai piccoli gesti quotidiani. Oltre il 40% del risparmio energetico che l'Europa si è data come obiettivo da raggiungere entro il 2020 dipende ad esempio dall'impiego di elettrodomestici di nuova generazione e dal loro corretto utilizzo. Una sana politica di contrasto a cambiamenti climatici, gli effetti dei quali tutti i giorni registriamo nelle nostre zone, educazione non la si fa semplicemente con le opere di messa in sicurezza o con i grandi interventi infrastrutturali o con le opere pubbliche, ma la si fa molto con le abitudini quotidiane. Educazione ambientale attraverso la tecnologia e progettazione concreta sui temi energetici di maggiore attualità. Come detto, anche gli istituti superiori pratesi saranno coinvolti energicamente tramite l'alternanza scuola-lavoro. Questa è una vera novità, anche di grande impegno sociale, perché diamo risposte alla grande domanda di riuscire a far vivere ai ragazzi delle esperienze con soggetti concreti del mondo dell'economia e della società e in questo caso riusciamo a costruire insieme in cinque città dei laboratori dove i ragazzi faranno delle progettazioni concrete e saranno protagonisti di proposte di cambiamento. Sarà presentato...